Grazie a tutti. Grazie a tutti. Su, arrendeteli. I vostri sforzi mettono ancora più in pericolo il genere umano. I vostri sforzi mettono ancora più in pericolo il genere umano. Non posso restare con le mani in mano e lasciarvi fare. Controllo. Mi sento troppo bene. Andiamo qui dentro. Ne avevo bisogno. Buon appetito. Che guardoni. Tutti questi sopravvissuti. Molto bene. Un piccolo passo verso la libertà, ma purtroppo non posso proprio concedervela. Ma perché trovo solo porte chiuse qui? Ehm... Ehm... Raccogliete la vostra... Sparco tu! No! 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 Prendete pure la sua tessera Intanto il virus vi divorerà dall'interno Scrivo meglio di come disegno Questo non fa altro che sancire Il mio enorme vantaggio Questo è per quanto hai dimenticato il mio compleanno, William Non mi faccia al disagio Usa una piatta verde Devo cercare di aumentare la sicurezza degli altri Avrete anche sbloccato il secondo dispositivo Ma non siete ancora insani Queste creature non dovevano esistere Ma perlomeno mi saranno utili Sì, è il quidlo Ehi, riuscite a scoprire Successo trascurabile, direi Non montatevi la testa Le armi biologiche di questa ricerca Sono una minaccia per il mondo La vostra morte sarà un'ulteriore prova Diamo un'occhiata Devo, cura di voluto Ora sarà molto più semplice farvi fuori La prossima è l'ultima area che vedrete Sì, è l'ultima area Fantastico Ok, sai cosa verrà fuori Accogliete la vostra morte Siete pronti? Non potrete distruggerli tutti? Se è qui, lo troverò Aiutami a eliminarli Ok E presto sarà tutto finito Non avete intera della sua resistenza C'è bisogno di ben altro per fuggire Come se questo potesse fermare Per tentativo, ma questo non ci vedrà Diamo un'occhiata Stato e arrivo Sì, adesso niente E potrà più fermarmi Forse questo aiuterà Alla prossima Alla prossima Mi hanno infettato Alla prossima Alla prossima Alla prossima Con l'aiuto